buonasera dici ma chissà che ha passato già comincia ridendo e sì per forza io comincio ridendo perché per dirla alla chandalla io innanzitutto devo spezzare un libro di grammatica e di sintassi italiana principalmente per me perché questo fatto lo può capire solamente chi segue assiduamente la mia pagina facebook perché io per prendere in giro la signora la cosiddetta assunta che ormai l'abbiamo battassata così assunta con l'acca che a sua volta aveva scritto delle cose poco carine sotto un mio video e premetto che a me non mi passa manca pagata anzi io le persone così le prendo in giro e come diremmo a napoli ci pare in gol che cosa ho fatto ho fatto la fotografia del commento della signora e poi per prendere in giro ho scritto cara signora a con l'acca si scrive solamente quando è verbo essere no ovviamente no non si scrive a con l'acca quando è verbo essere si scrive a con l'acca quando è verbo avere infatti alcuni di voi chi in privato e chi sotto quello stesso posto me l'hanno fatto notare e avete fatto benissimo correggetemi sempre perché io sbaglio sempre quindi divertitevi a correggermi perché voglio dire che ci stai strano quindi ammetto la mia ignoranza e ci faccio la prima risata proprio un gulla a me ora detto questo per fare proprio contenta la signora assunta e per fare contente anche le persone che me l'hanno chiesto io adesso cerco di spiegarvi la parola o patapato e l'acqua che ho usato nell'ultimo video proprio sul patapato e l'acqua che ha fatto a napoli negli ultimi giorni allora questa parola qua secondo alcuni studiosi deriverebbe dal greco parapatto che significherebbe spargere tutto intorno secondo altri studiosi e secondo me è questa l'ipotesi più accreditata è semplicemente un termine non vi impressionate morica una brutta parola un termine onomatopeico o termine onomatopeico è più difficile a dirlo che a spiegarlo le parole onomatopeiche esistono pure in italiano sono quelle parole che quando vengono pronunciate riproducono il suono della cosa che indicano tante parole onomatopeiche sono i verbi che spiegano i versi degli animali oppure per esempio ticchettio oppure cinquettio per dire il verso dell'uccellino e roba varia queste sono le parole onomatopeiche quindi o patapate l'acqua sarebbe un termine onomatopeico perché pat pat dovrebbe essere il rumore dell'acqua quando cade a terra copiosamente secondo il mio modesto parere se sautericero o ciac ciac e l'acqua perché secondo me l'acqua ditemi voi se mi sbaglio non tanto fa pat pat quando cade a terra secondo me fa più ciac però penso pure che dire o ciac ciac e l'acqua non è tanto bello è un pochettino cacofonico suona male allora è meglio dire o patapate l'acqua dunque o patapate l'acqua l'abbiamo spiegato è un termine onomatopeico detto questo io vi preannuncio che sempre per fare contenda signora assunta e tutti gli altri che lo vorranno sapete io nel prossimo video cercherò di spiegarvi l'espressione napoletana stag e pack rinda l'acqua che è un'altra espressione che ho usato nell'ultimo video in cui ho parlato del temporale che ha fatto a napoli detto questo vi saluto buona serata a tutti statevi bene grazie a tutti Grazie per la visione!